Dicevamo all'inizio della trasmissione, se tu dai un vaccino che dici che puoi darlo a chi è estremamente sano e sotto i 55 anni individui le categorie, bisognerà chiedere perché hanno individuato quelle categorie, però per esempio la Toscana ha il 77% del personale docente scolastico che ha avuto almeno una dose di vaccino, quindi è molto alto. Quindi questa politica di dare AstraZeneca ai soggetti più giovani l'hanno improntata fin da subito, hanno fatto la prima dose e poi hanno conservato la seconda dose che andava fatta a 10-12 settimane. I numeri cresceranno adesso che le cose sono cambiate e sono sicuro che già una settimana, due settimane da oggi vedrete che il numero degli anziani che hanno ricevuto una dose che oggi è circa il 37% sarà destinato a salire. È stata una scelta politica. Sì, però vedi, in Piemonte la signora Tinti prima mi ha scritto un messaggio, diceva, ma perché non l'han fatto? A chi era fragile? Mio marito, magistrato, aveva problemi, aveva 78 anni, poi vedi che c'è gente di 40 anni che se lo fa, che sta bene in salute. Io è questo che mi fa uscire di testa. Pregliasco!